Ciao a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark Chaos 92 Sono l'1.37 del di notte ovviamente E sono qui appositamente per fare questo video per voi Il nostro TeamSpeak, il primo, è andato out Il secondo TeamSpeak è andato out Il terzo TeamSpeak dove facevo, tra virgolette, parte di una Lasciamo perdere, community più o meno, che non faccio il nome E niente, praticamente sono stato sbattuto fuori Ma non mi importa, sono tranquillissimo così Ora ho creato il mio TeamSpeak Significa che io pago il mio TS E a pagamento ovviamente pago io e i miei moderatori E quindi cosa sto facendo? Vi sto portando questo video per farvi capire che Giù in descrizione troverete L'address, cioè praticamente tra virgolette i dati del nostro TeamSpeak Ovviamente da oggi in poi mi trovate sempre in questo TeamSpeak Che vi lascio sempre il link in descrizione come vi ho già detto E niente, penso che non c'è più niente da dire Il video è stato corto, però comunque è solamente per farvi capire che comunque Io non è che ho messo il canale in pausa o non sto facendo video o altro Perché purtroppo sto sistemando tra il TeamSpeak, tra i permessi Tra il problema che ho avuto con la community Tra tanti altri cazzi che ho avuto in testa Problemi e assurdità E quindi ho cercato Tra virgolette Un momento per riuscire a portarvi un video del genere Quindi ragazzi Io spero che avete capito quello che ho detto nel video Anche perché comunque è durato pochissimo Come vi ho già detto Questo video non sarà ietato Ma sarà già fatto il video Un po' direttamente nel canale Stop Quindi ragazzi State tranquilli Io ci sono Non è che non faccio più live o altro In momento sto cercando di parlare anche con Infostrada Sto cercando anche di comunicargli Se possono aumentarmi l'upload Cioè Io sto facendo qualunque cosa ragazzi Per migliorare nel mio canale Quindi niente ragazzi Cioè Sto facendo di tutto Quindi Capitemi ragazzi Capitemi Quindi Che dire ragazzi Io vi ringrazio per aver visto il video Come vi ho già detto Spero che avete capito Scusate se sono sempre Come si dice Che duplico le cose che dico Cioè le dico Doppie Io purtroppo Come dice molta gente Nell'italiano faccio schifo Quindi devo andare a studiare Allora che faccio raga Vado a studiare Ci sentiamo al prossimo video E alla prossima live Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga